Sono Rosario Corti, sono segretario del Centro Aiuto alla Vita di Lecco. La nostra attività consiste nell'assistere, nell'aiutare le mamme in difficoltà, soprattutto il nostro obiettivo principale è quello di evitare il ricorso all'aborto. In questo senso teniamo aperta la nostra sede due pomeriggi la settimana dove riceviamo un numero altissimo di donne e di mamme in difficoltà. Li aiutiamo fornendo loro materiale che può servire per crescere i bambini, carrozzine, sigioloni, ma anche viveri alimentari. In più da due anni a questa parte abbiamo sottoscritto una convenzione con l'AS di Lecco che ci consente di tenere aperto uno sportello nella sede del consultorio di Lecco con la presenza di una nostra psicologa che riceve, accoglie, accompagna queste donne nel loro cammino che riguarda appunto la maternità.